Signori, ascolto buonasera. Siete collegati in diretta con il Giant Stadium del New Jersey. Sei pronto? A tavola! Ho firmato quella Fiorentina per 2 miliardi e 700 milioni. Così mi ripaghi i vetri che hai rotto in officina? Tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Maradona è buddista, pure l'uno che è buddista. Guarda che a me non mi converti, eh? Il nostro mondiale comincia ora. Se ogni volta che toco la pala io la devo dar via di prima, come faccio a fare un sound dribbling? Vesi solo a te stesso, non fai gruppo. Ma forse è te che mi trattavi sempre peggio degli altri, invece di credere in me una volta. La cosa importante che devi capire è che dipende tutto da te. Se vuoi, ammazzami. Non devi dire neanche per scherzo questa roba. Neanche per scherzo. Più di vent'anni in un pallone Più di vent'anni da aspettare con rigore Mi hai fatto vedere che sei umano. Puoi scoprire che la vita Sei di che determini la tua esistenza. Quindi adesso te ti alzi. Allora, che vuoi che ti dica che ti porto al mondiale? Giovanni, questo è l'ultimo mondiale, però. Ha bisogno di noi. Ha bisogno della sua famiglia. Che siamo contenti. Di cosa? Che giochi con noi. Ancora non ci vediamo. Tutti passano a pallar baggio e te fai gol. Guarda che sei te che devi credere in te stesso. Di quel campione che toccava ogni pallone Come se fosse la vita Non so potrà sembrarti un'esagerazione Ma pure quel rigore Ha mi insegnato un po' la vita Grazie a tutti. Grazie a tutti.